Salve tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Moltissimi di voi dopo la foto che ho caricato su Facebook mi hanno chiesto di fare questo tutorial su come avviare Final Cut Pro 10.1 su Mac OS X Yosemite Developer Preview oppure Beta 2, dipende se siete degli sviluppatori oppure degli utenti normali che usano la beta pubblica. Dunque come saprete Mac OS Yosemite è l'ultimo sistema operativo Apple per Mac che non è ancora uscito in fase definitiva, è ancora in fase sperimentale, però l'ultimo aggiornamento che ha ricevuto sia la Developer Preview 6 è talmente stabile che avevo deciso di farlo diventare il mio sistema operativo primario. Tuttavia c'è un problema, un unico problema secondo le mie esigenze, ossia che l'applicazione Final Cut Pro 10.1 non funziona su questo sistema operativo, su Yosemite. Infatti come vedete se io vado a reperire l'applicazione, io ce l'ho nella cartella di default dove ci sono tutti i programmi Apple, vado a farci un doppio clic per aprirla e come vedete mi compare questo messaggio di errore del Finder che mi dice che i due software non sono compatibili quindi non può aprire Final Cut su questa versione di Mac OS X. Voi capite bene che essendo Final Cut il mio software quotidiano di editing video non posso tenere un sistema operativo come sistema primario se non me lo può aprire in quanto non potrei più fare video su YouTube ma fortunatamente ho scoperto un trucco per far funzionare al 100% Final Cut Pro su Yosemite. Ovviamente quando Yosemite uscirà in versione pubblica Apple rilascerà un aggiornamento ufficiale che lo renderà compatibile ma nell'attesa potremo benissimo usare questo trucco per far funzionare la versione 10.1 su appunto Yosemite. Vediamo subito come fare, è veramente molto semplice, basterà fare clic con il tasto destro sull'applicazione e selezionare mostra contenuto pacchetto. Successivamente apriamo la cartella Contents facendo un doppio clic e infine apriamo la cartella Mac OS. Una volta aperta al suo interno ci sarà un file Unix eseguibile chiamato Final Cut Pro. Questo è il nucleo dell'applicazione, come suggerisce il nome stesso l'eseguibile. Bene, per far partire Final Cut basterà fare clic con il tasto destro e selezionare apri. Mi raccomando non apritelo con un doppio clic perché ogni tanto potrebbe non funzionare. Molto meglio aprirlo facendo tasto destro e selezionando apri. Apparirà questa finestra terminale e dopo pochi secondi, veramente dopo pochi secondi, Final Cut Pro si manifesterà a schermo. Eccolo qua perfettamente funzionante. Vi do un consiglio. Se volete avere questo file sempre a portata di mano potrete trascinarlo nel dock, non dove ci sono le applicazioni, bensì a destra del separatore. In quanto non è un'applicazione quindi dovrete trattarlo come un file. Però comunque una volta messo nel dock, facendo un clic su di esso partirà in automatico Final Cut Pro X. E questo è veramente molto comodo. Vi garantisco che funziona alla perfezione. Una volta aperto Final Cut potrete anche chiudere la finestra del terminale, questa qui bianca. Non succederà niente. Però comunque io vi consiglio, mentre usate Final Cut, di tenerla aperta. Perché è sempre meglio, voi considerate che comunque Final Cut è partito da quella finestra ed è ancora in esecuzione. Quindi finché non chiudete Final Cut vi consiglio quella finestra del terminale di non chiuderla. Fate come me, riducete l'icona. Poi ovviamente una volta chiuso Final Cut potrete chiudere anche il terminale. Come vedete comunque funziona alla perfezione. Ora provo a creare un nuovo evento per prova. Proviamo per esempio ad importare qualche clip, qualche file multimediale. Li importo direttamente dalla scheda SD della mia macchina fotografica. Questa è la clip iniziale del vlog dell'Ice Bucket Challenge. Per esempio proviamo ad importarla in timeline. È anche molto fluido considerando che lo stiamo avviando su un sistema beta, su un sistema developer preview. Comunque come vedete funziona tutto. Funzionano i comandi, funzionano le funzioni, funzionano tutto. Funzionano anche le scrocciatoie da tastiera. Il programma è perfettamente compatibile con Yosemite. Solo che per avviarlo bisogna usare questo semplice trucco. Molti di voi me l'hanno chiesto e quindi vi ho fatto questo tutorial. Se vi è stato d'aiuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su. Mi raccomando ragazzi, inoltre vi ricordo di seguirmi su Twitter, Facebook e Instagram. Tutti i link ai miei social ve li lascio giù in descrizione. Iscrivetevi anche al mio secondo canale in cui caricherò recensioni di tweak, di sidi e vlog occasionali. Per aiutarmi a crescere condividete questo video dappertutto sul web. Soprattutto la cosa più importante di tutte, iscrivetevi al mio canale. Un grande saluto, ciao a tutti!